La tenerezza di Papa Francesco ha contraddistinto la visita al centro di recupero per persone disabili House of Hope di Cotonier, un comprensorio di istituzioni riabilitative, sanitarie, religiose e spirituali fondate da padre John Ho Wong Jin. Il pontefice si è intrattenuto lungamente con tutti i presenti, recando conforto e vicinanza a quanti affrontano la dura prova della malattia. In un susseguirsi di eventi e appuntamenti ha quindi incontrato nell'auditorium della School of Love circa 5.000 religiosi e religiose che svolgono il servizio pastorale in Corea. A tutti Papa Francesco ha chiesto di offrire una testimonianza gioiosa, nutrendo le proprie vite con la preghiera, la meditazione della parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti e la vita comunitaria. Quando queste mancano, aggiunto, emergeranno le debolezze e le difficoltà che oscureranno la gioia conosciuta così intimamente all'inizio del nostro cammino. Tra i temi affrontati è anche quello del voto di povertà. L'ipocrisia di quegli uomini e donne consacrati che professano il voto di povertà e tuttavia vivono da ricchi, ha dichiarato, ferisce le anime dei fedeli e danneggia la Chiesa.